La mia posizione al Consiglio sarà chiara. La risposta europea la valuto nel suo complesso, quindi lotteremo per avere gli euro bond e spiegherò con forza al prossimo Consiglio europeo, ancora una volta, che è uno strumento il MES totalmente inadeguato, insufficiente per l'emergenza che stiamo vivendo. La risposta comune o è ambiziosa o non è. Non abbiamo alternative. Se fosse stata una crisi come nel 2008-2009, potevamo ragionare di altri strumenti. Avremmo potuto stare lì a sofisticheggiare, mi piace questo, mi piace quello, ma oggi dobbiamo inventarci due nuovi strumenti. E da questo punto di vista io non firmerò sino a quando non avrò un ventaglio di strumenti adeguato alla sfida che stiamo vivendo. È una sfida, vedete, che non riguarda solo noi che siamo cittadini italiani, non riguarda solo l'Italia, riguarda l'Europa e quindi tutti gli Stati membri. E io sono convinto che alla nostra tenacia, con la forza della ragione, riusciremo alla fine a convincere tutti che questo è l'unico percorso che si offre per consentire all'Europa di ripartire con forza, di alzare le reni e di competere sui mercati globali.